Sto dirigendo verso Cappabace, che non è altro che il distretto dedito a tutto quello che concerne la cucina dai coltelli alla posateria, insomma tutto quello che serve per uno chef insomma la miniera d'oro degli chef Ci sono praticamente tutti i negozi, uno presso l'altro, con tutto quello che appunto concerne la cucina ci si può perdere anche qui ovviamente e questo è il sogno di qualsiasi chef se potete prendere un colpello ovviamente bisogna vieni in questo negozio voglio questi coltelli fatti in carbon steel debbano essere poi man mano ogni volta asciugati, una volta usati altrimenti si possono rovinare l'obbano sono altamente se potete prendere un'acqua che buone potere il nostro prezzo è diverso Questo è il negozio delle repliche per i ristoranti e i piatti da mangiare che si muovere Sono sushi Tutto spiato A 10 minuti poi, a piedi da Kappabashi, Pitching Town, si può arrivare ad Asakusa, dove... E durante la Sakura i ciliegi in fiore, quindi tutta questa parte, lungo fiume, si riveste di un colore rosa. E ora di andare cato, va?